E questi cosa sono? Grazie a tutti. Un libro. Cosa si fa qua un libro? C'è qualcuno? C'è qualcuno? E questo cos'è? Sembra un libro. Ma che roba è? Rituali? Magie, incantesimi, demoni? Ma è possibile che rovi? Utilizzi questa roba? E questo? 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 tu non mi hai mai amata mi hai lasciato marchire in quell'istituto ma che dio benvenuto unisciti a noi tanto da qui non puoi più fuggire musica musica